Musica Buonasera, benvenuti a Lo dice la Iena. Questa sera parleremo di due argomenti, della viaria e di quello che sta dietro la carne, ovvero delle conseguenze dell'allevamento di animali a livello globale, sia dal punto di vista delle risorse che vengono utilizzate per l'allevamento degli stessi, che appunto a livello di acqua, a livello di clima e appunto tutto quello che coinvolge l'allevamento di animali. Parliamo dell'aviaria. L'aviaria è un problema di cui parlano gli scienziati, che gli scienziati tengono sotto controllo. Dalla fine del Novecento ci sono ceppi di aviaria, ci sono focolai di aviaria in giro per l'Europa, costantemente, anche in Italia. Molto spesso ci sono diversi ceppi di aviaria. Il trattamento appunto degli animali che possono sviluppare questa malattia si vede benissimo nelle immagini. Qua abbiamo il carico dei polli che cadendo quando vengono buttati nel container, vengono addirittura schiacciati dallo stesso e sconvolgente. Pensare che nel 2020 si ritenga ancora una procedura normale, trattare degli esseri senzienti in questa maniera. L'aviaria è una zoonosi. L'aviaria si può tranquillamente trasmettere all'uomo, è già acclarato. E dall'inizio del 2000 gli scienziati stanno aspettando una forte epidemia di aviaria che potenzialmente potrebbe andare a decimare la nostra popolazione. Perché comunque è una malattia con un altissimo livello di mortalità, più del 60%. Quindi è molto grave una mortalità molto più alta del Covid. Non a caso gli scienziati ne parlano e la tengono sotto controllo dalla fine del Novecento e non è ancora arrivata, però si attende. La stanno aspettando dall'inizio del 2000. E ripeto, non è che non c'è. Perché se controllate sui motori di ricerca, in giro per l'Europa c'è l'aviaria. In Italia ogni anno c'è l'aviaria. Ultimamente sono stati abbattuti migliaia di animali, appunto di uccelli, quindi del comparto avicolo, per aviaria in Europa, in Svizzera, in Francia, in Italia anche succede spesso. Interi allevamenti di cui gli animali vengono abbattuti per l'aviaria, che appunto è una zoonosi. Il motivo per cui è facile che si sviluppi, lo vediamo bene dalle immagini, abbiamo appunto delle realtà in cui in un metro quadrato devono convivere 20 polli e appunto questa è la realtà che va a portare potenzialmente alla diffusione di virus letali, sia per loro stessi che per noi. Nel caso specifico l'aviaria è già una zoonosi, non deve fare il salto di specie, è una cosa che è un dato per acclarato che si trasmette da uccelli a persone. Abbiamo anche l'aggravante del fatto che i polli, il pollame, i tacchini, tutti questi animali che possono ammalarsi in questa maniera, poi possono avere contatto diretto con gli abitanti del cielo, ovvero gli uccelli selvatici. E gli uccelli selvatici si possono tranquillamente spostare. Quindi capite che è molto grave come discorso, è anche abbastanza difficile da tenere sotto controllo. Ora non possiamo pensare che un domani dovesse espandersi, nel caso specifico l'aviaria, si possano sterminare tutti gli animali degli allevamenti, sterminare tutti gli uccelli selvatici che volano sopra le nostre teste e che quindi possono con zecche o con avere dei contatti con noi e portarci qualcosa. Non si può pensare di risolvere così qualcosa che comunque abbiamo creato noi, tramite l'allevamento di animali, gli allevamenti intensivi in particolare. Il più del 90% della produzione di origine animale avviene dagli allevamenti intensivi, non è una parte esigua. Gli allevamenti intensivi sono locati vicino ai centri abitati, quindi è molto facile che ci sia una trasmissione diretta alle persone, perché non sono in mezzo al bosco o in dei paesi non lontani dai grandi centri abitati, sono lì, sono lì vicino. Chi vive in Italia, se prende l'autostrada del sole da Milano per scendere, nel primo pezzo dappertutto entra l'odore tipico dell'allevamento. Si sente, pensiamo a che densità di animali, che realtà igienica totalmente inesistente, che ci può essere per farci sentire un odore così pungente, addirittura dentro la macchina d'inverno con i finestrini tirati su. E questo non succede adesso. Io, fin da bambina, in macchina con i miei genitori, da bambina, no? Molto ingenuamente dicevo, ma che puzza! E loro mi dicevano, c'è un allevamento, poi ovviamente ero bambina. E appunto, da ottobre del 2021 in Italia si sono registrati 306 focolai di influenza aviaria. Le specie più colpite sono tacchini, galline e polli. E si stima che siano oltre 15 milioni gli animali abbattuti in Italia. Del caso specifico per l'aviaria, perché mi preme, mettere al corrente, ci preme, le persone, del fatto che innanzitutto la classe medica, la maggioranza, non tutti, mi assumo assolutamente la responsabilità di quello che dicono, ma devono smetterla di dire alle persone di mangiare la carne bianca, perché la carne bianca fa bene. Ecco, non basta farsi tot anni di università, studiarsi libri che vengono proposti, senza informarsi su quello che sta avvenendo adesso nel mondo. Perché quello che poteva andare bene per i nostri nonni, ovvero mangiare la carne bianca piuttosto che la carne rossa, non può più andare bene per noi. dal momento che eleviamo il comparto etico da tutto questo. Gli animali vengono allevati, come abbiamo visto, e come è chiaro che non si può vivere bene, come è chiaro che le malattie si trasmettono molto velocemente, è chiaro che questi animali o sono, per esempio per quello che riguarda le galline, o sono sottoposti a cicli di luce di 20 ore su 24, le galline vengono tenute sotto appunto queste luci artificiali ovviamente, per 20 ore su 24. Tutto questo porta a stress, lo stress abbassa le difese immunitarie, e se non bastasse quindi c'è anche questo. Non sono animali trattati bene e quindi anche lo stress gli dà meno possibilità al loro corpo di reagire. Altrimenti abbiamo animali che per lo più, appunto la comunità scientifica è preoccupata di questo, perché questi allevamenti sono considerati un serio problema per la salute pubblica. Gli scienziati, altra categoria di persone che viene quasi totalmente non ascoltata dai produttori di alimentazione, in questo caso di carne, o in generale se nelle scelte politiche si ascoltassero un pochettino di più gli scienziati, che molto spesso per altre ragioni vanno a, come dire, coesistere con quello che portiamo noi in piazza, da altri punti di vista, forse certi problemi si riuscirebbero ad anticipare, invece che pensare di risolverli, sterminando tutti gli animali. Nel caso della peste sui nei cinghiali, nel caso della viaria poi succede che abbattono, ma non risolvono il problema, perché finché ci saranno queste realtà, queste epidemie andranno in giro, non è la risoluzione del problema. E qua, vabbè, abbiamo la storia di un tacchino che è stato destinato a miglior vita da noi qualche anno fa. Ogni tanto c'è una bella storia. Volevo fare anche un altro accenno, oltre appunto alla viaria, quindi a tutto il discorso igienico-sanitario che abbiamo affrontato in questa puntata e nelle puntate precedenti. Parleremo approfonditamente, nelle prossime puntate, anche della responsabilità a livello mondiale del consumo di carne per altri aspetti. Tra animali terrestri ed animali marini, quindi gli allevamenti di pesci, ogni anno vengono macellati circa 150 miliardi di animali. Noi siamo un po' meno di 7 miliardi, molto pochi rispetto a 150 miliardi di animali. Il punto è, perché a livello politico i vari governi e gli importanti del mondo non hanno scelto, prima di dar da mangiare e di creare questi animali che ci sarebbero, di risolvere il problema dell'alimentazione umana? Perché è paradossale che si trovi cibo per 150 miliardi di animali che vengono creati appositamente e invece ci sia ancora una larga fetta di popolazione umana che soffre di problemi legati alla malnutrizione. Lo sappiamo bene, io lo so, fin da bambina, vengono mandati nelle pubblicità, però non si arriva alla chiave del problema. La FAO lo dice dal 900 che bisognerebbe passare ad un'alimentazione vegetale o almeno prettamente vegetale per avere ancora un pasto per tutti al mondo, ce la potremmo ancora fare. Pensiamo che la terra, per dar da mangiare a questi animali che vengono creati apposta per fare carne, viene sfruttata al punto che se cessassero gli allevamenti circa il 70% della terra attualmente coltivata sarebbe libera e questo cosa porterebbe? Ad avere più spazio per gli animali selvatici, quindi potenzialmente a non avere i cinghiali che vanno dentro le città, quindi a non trovarci animali selvatici che si avvicinano a noi, perché avrebbero il 70% di più, avrebbero tantissimo habitat in più. Se pensiamo che il 70% della terra attualmente coltivata sarebbe lasciata libera e questi sono dati che riguardano il nostro futuro e quindi avendo gli animali selvatici più distanti da noi si andrebbe ad abbassare anche per esempio il rischio di zoonosi perché sia l'allevamento che è anche la vicinanza dell'animale selvatico ma anche quello che ci può essere nel caso della peste suina la possibilità di contagiarsi tra cinghiali e maiali se i cinghiali sono vicini a noi ma non per colpa loro è evidente che si può incorrere in problematiche maggiori rispetto a quelle di un mondo equilibrato in cui l'allevamento intensivo non era assolutamente messo in cantiere 150 miliardi di animali che vengono creati ogni anno a loro volta producono nel caso per esempio dei bovini sempre loro malgrado producono metano il metano è un gas serra che sono i maggiori imputati per quello che riguarda il cambiamento climatico l'aumento delle temperature ed anche l'inquinamento e il discorso è che i bovini in natura in Italia per esempio non ci sarebbero e in tantissime parti del mondo dove vengono messi per fare allevamento non ci sarebbero e come loro tantissimi altri animali quindi alla domanda che ci viene fatta cioè alla provocazione un po' magari alla domanda ingenua che ci viene detta che anche anche se fossero liberi avrebbero flatulenze lo stesso sì ma non ci sarebbero 150 miliardi di animali in più sono numeri enormi sono animali che vanno nutriti a discapito appunto delle persone ultima cosa avrete visto tutti gli incendi che stanno avvenendo sia per cause dell'aumento della temperatura che è come abbiamo visto comunque legabile collegato al consumo di carne ai gas serra e dall'aumento della temperatura ma poi ci sono anche gli incendi indotti dai grandi lobbisti della carne per esempio nella foresta amazzonica che viene rasa al suolo tramite incendi o per fare pascoli per lo zebu lo zebu è un bovino con una gobba sulla schiena che viene allevato nella foresta amazzonica e poi viene venduto in Italia come bresaula della valtellina e i consumatori contentissimi di aver comprato un prodotto a chilometro zero invece hanno preso un bovino che è stato allevato in foresta amazzonica per il cui allevamento è stato disboscata con il ritmo di un campo da calcio al secondo e oltre che chiaramente per l'allevamento dello zebu o comunque l'allevamento dei bovini viene disboscata e non solo la foresta amazzonica per fare spazio alle colture di cereali di soia e tutte le monoculture che oltre che impoverire la terra vengono date agli animali che vengono macellati pensate che la soia per circa il 90% o comunque più dell'80% è destinata alla zootecnia non ai vegani è destinata agli animali che poi vengono macellati non alle persone e sono sono dati sconvolgenti perché adesso stiamo vedendo veramente quello che che porta a un certo stile di vita alterato in ultimo questi animali consumano anche una quantità di acqua l'acqua potabile a livello mondiale per una cifra una proporzione inaccettabile viene utilizzata per l'allevamento degli animali perché perché la terra che viene utilizzata per produrre i loro cereali e le loro monoculture deve essere appunto irrigata perché per la macellazione ci vuole tantissima acqua perché per mantenerli quando devono bere ci vuole acqua per produrre latte l'Italia è un grande produttore di latte ci vuole tantissima acqua per la produzione di latte quindi si arriva al punto che una cifra un paragone un parallelo che mi ha sempre scioccato è che 5 kg di carne che messi su una bilancia sono niente per 5 kg di carne ci vuole un quantitativo di acqua che una famiglia media consumi in un anno 5 kg di carne cioè una famiglia che è abituata a mangiare carne non ci mette tanto a consumare 5 kg di carne e questi corrispondono al consumo di un anno quindi l'allevamento degli animali di cui abbiamo visto gli aspetti igienico sanitari è comunque collegato più avanti parleremo del risvolto etico anche che è quello che è stata la prima cosa per cui noi abbiamo fatto io ho fatto questa scelta le persone che collaborano con me hanno fatto questa scelta ma anche se non dovesse interessare per forza alle persone che ascoltano questo programma e ascoltano queste informazioni il problema è che ci tocca direttamente da tutti gli altri punti di vista se non direttamente noi ma noi come specie i nostri figli i figli dei nostri figli e il nostro futuro su questo pianeta è messo fortemente a rischio l'ha detto anche l'ONU quest'estate se non diamo una svolta e uno dei modi di farlo è il cambio dell'alimentazione a l'anima a l'anima Grazie a tutti.